Venite a scoprire con me quel meraviglioso teatro invisibile che è il radiodramma, un teatro fatto alla radio con solo parole e suoni. Sono Giancarlo Viani e durante quest'anno vi accompagnerò tra la storia e i protagonisti del radiodramma, ma non solo perché nella seconda parte del corso utilizzeremo la tecnica degli attori radiofonici, studieremo la tanto temuta dizione, ci divertiremo con gli elementi espressivi della voce, analizzeremo un copione, i suoi personaggi e giocheremo con i rumori e tutto questo ci permetterà a fine anno di costruire un vero e proprio radiodramma. Vi aspetto ogni settimana con il corso Il Teatro Invisibile, il radiodramma.